220.000 mascherine sequestrate perché prive delle idonee certificazioni di sicurezza ed affidabilità. È il risultato dell'attività condotta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Iesi, durante i servizi di controllo volti a rilevare fenomeni illeciti legati al significativo aumento della richiesta di dispositivi di protezione individuale, dispositivi medici e mascherine chirurgiche. Le fiamme gialle, partendo da una segnalazione del nucleo speciale beni e servizi di Roma, hanno effettuato approfondimenti investigativi che hanno permesso di individuare e sequestrare presso un deposito di una società localizzata a Monte Roberto oltre 200.000 mascherine di tipologia chirurgica e FFP2. In particolare la merce rinvenuta dai militari riportava falsamente il marchio CE. Inoltre non è stata fornita alcuna documentazione che consenta di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali a seguito di formale autorizzazione dell'INAI. I militari dipendenti dal comando provinciale di Ancona hanno quindi denunciato una persona di 27 anni di origine cinese, titolare della società a responsabilità limitata, per frode nell'esercizio del commercio, reato per il quale è prevista la reclusione fino a due anni o una sanzione superiore ai 2.000 euro. L'intervento si inserisce nel quadro di intensificazione delle attività di contrasto volte a tutelare i consumatori e gli operatori onesti e che puntano invece a segnalare coloro che approfittando dell'attuale situazione emergenziale mettono in atto pratiche commerciali scorrette.